Adesso li mettiamo un po' di cose sotto. Vieni con le dita, non sta fuori, non meno. Ci sono vari laboratori che noi facciamo la mattina e qui partecipano sia i nostri ragazzi sia i ragazzi che vengono dalle classi. Questo è uno spazio aperto in cui ci sono sia laboratori sia si può usufruire dei computer, quindi a volte vengono ragazzi a fare ricerche o a studiare qualche cosa. In questo spazio ci sono sia degli educatori, insegnanti specializzati sul sostegno, in questo caso adesso c'è una tirocinante della scuola serale, quindi noi cerchiamo di creare un gruppo di persone che lavorano insieme. Le attività variano, in questo caso c'è un laboratorio di ceramica, però altre volte c'è un laboratorio espressivo che è condotto da una nostra educatrice e poi in altri spazi della scuola ci sono altri laboratori con l'idea di estendere il più possibile la partecipazione a tutti i ragazzi della scuola.